Ultima tappa ad Arezzo per il tour di Toscana Digitale, il ciclo di incontri organizzato dalla regione per accogliere istanze e idee sull'agenda digitale dai territori, uno spazio di partecipazione e confronto aperto ad enti pubblici, imprese e cittadini sulle infrastrutture e le piattaforme digitali, sui servizi online, sulle smart city e la comunicazione pubblica. Siamo all'ultima tappa, in realtà avevamo rinviato per la giornata triste dell'incidente all'archivio e anche qui siamo fortemente impognati, questa è una provincia dove l'investimento in infrastruttura sulla banda ultralarga è tra i più importanti della Toscana, dovevamo impegnato 26 milioni di euro per raggiungere 88 mila unità immobiliari con la banda ultralarga quindi ad alta velocità e non solo questo, già 14 sono i comuni fra la cosiddetta fase zero in cui si iniziava sperimentalmente su tre comuni anche della provincia di Arezzo e la fase 1 che è la prima fase di tutta la gara divisa in quattro fasi dove ci sono ulteriori 11 comuni di questa provincia. Quindi l'impegno è tanto, è per raggiungere tutte le unità immobiliari, sia le aziende che le famiglie, nelle zone dove il mercato non ha consentito un intervento diretto degli operatori. L'incontro si è tenuto alla Casa dell'Energia, al centro dei tavoli di lavoro c'è stato anche il tema della banda larga e ultralarga per navigare veloci su internet anche nelle zone più periferiche, ma anche il data center pubblico che la regione ha messo a disposizione di comuni e amministrazioni pubbliche. Abbiamo deciso di puntare in maniera strategica su cultura e turismo e quindi è evidente che la possibilità di essere in rete attraverso le infrastrutture immateriali è fondamentale per intercettare e per promuovere le iniziative che stanno diventando sempre più attrattive a livello nazionale e speriamo anche non solo. E l'altra perché questa intende essere una città dei servizi e quindi i servizi sempre di più si giocano nella piattaforma digitale. Questo è un paese che nei suoi 60 milioni di abitanti ne ha di fatto 30 ormai digitali seppure in maniera ancora inconsapevole. e più di 50 digitali in maniera comunque intermittente ciò significa che la cittadinanza si sposta anche attraverso la possibilità di dare servizi, di informare attraverso la rete e quindi era una doppia sfida che tiene insieme le tre priorità cultura, turismo e servizi al cittadino. Tra i focus del tour di Toscana Digitale anche Open Toscana la piattaforma aperta creata dalla regione che si candida a ospitare i servizi di tutti i comuni ma anche la nuova comunicazione pubblica ovvero la capacità delle pubbliche amministrazioni di comunicare con i cittadini attraverso il web e i social network. È stata un'ottima iniziativa, grande partecipazione su tutti i territori sia di enti e aziende pubbliche ma anche di imprese, cittadini, professionisti di vario genere. C'è stata una grande partecipazione soprattutto sulle varie tematiche, infrastrutture e piattaforme, servizi digitali, smart city e nuova comunicazione pubblica. La richiesta forte di tutti i territori è di continuare il percorso perché l'agenda digitale è un lavoro quotidiano, va portata ai cittadini, bisogna aiutarli, spiegargli quali sono le opportunità e i miglioramenti della vita quotidiana. L'obiettivo è questo, quindi rendere Toscana Digitale un progetto che va avanti nel tempo e quindi un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno seguito il percorso ma in generale per gli enti, le aziende pubbliche e soprattutto i cittadini.